Bentornati in NatureCast, il podcast che dedica qualche minuto alla scoperta di mondi nuovi particolari, podcast dedicati alla divulgazione scientifica, a temi naturali e anche alla cultura ambientale. Mi trovate su Instagram, Facebook e Twitter, anche associate al mio sito internet dell'attività lavorativa www.calcagnoconsulenza.com. Partirei subito con una buona notizia. La popolazione europea del Grifone, che è uno dei pochi avvoltoi presenti sul territorio europeo, sta aumentando di nuovo dopo anni di declino, nonostante sussistano ancora gravissime minacce per questa popolazione. Questo aumento a cosa è dovuto? È dovuto al fatto che la direttiva Uccelli compie 41 anni quest'anno, ad agosto. È una storia europea di successo, perché è stata adottata circa 41 anni fa, nel 1979, e la direttiva Uccelli costituiva un atto legislativo veramente rivoluzionario. Fu una delle prime leggi ambientali ad essere adottate a livello europeo, nonostante gli allora limitati poteri della comunità europea in campo ambientale. La direttiva giunse anche in un momento in cui le iniziative di conservazione internazionale erano ancora in fase embrionale, in fase iniziale. Il primo vertice dell'ambiente era stato organizzato pochi anni prima, nel 1973, e fino ad allora esisteva una sola convenzione internazionale sulla natura, che era la convenzione di Ramsar sulla conservazione delle zone umide, entrata in vigore nel 1975. Ma anche in quel momento l'allarmante declino della vifauna aveva catturato i cuorealmente delle persone in tutta Europa. Stavano emergendo rapporti sul drenaggio su larga scala delle zone umide e sulla perdita di altri importanti abitati a causa dell'industrializzazione agricola, lo sviluppo incontrollato e l'espansione urbana. Questo, unito al drammatico declino del numero di uccelli causato dall'inquinamento, dalla persecuzione e dall'uso eccessivo di pesticidi nocivi come il DDT, misero in evidenza la necessità di un'azione urgente. La conseguente protesta pubblica spinse i governi ad agire in questo senso. I nove stati membri che all'epoca formavano l'Unione Europea riconobbero pienamente che, considerando la natura migratoria degli uccelli, sarebbero stati molto più forti e più efficaci se avessero lavorato insieme. E così nacque la direttiva uccelli, proteggendo oltre 500 specie di uccelli selvatici in tutto l'orareale naturale all'interno dell'Unione Europea, indipendentemente chiaramente dai confini nazionali. Volando, gli uccelli non hanno confini. La direttiva diresse inoltre una nuova attenzione alla conservazione della fauna selvatica basata sulla protezione e la gestione degli habitat e delle specie. Fino ad allora la maggior parte delle iniziative di conservazione tenevano a concentrarsi sulla conservazione di una specie iconica. Tuttavia, era diventato sempre più evidente che, al fine di salvaguardare una specie, si doveva anche conservare il suo ambiente. La direttiva uccelli è stata una delle prime disposizioni legislative a introdurre i principi di protezione degli ambienti più importanti per le specie di uccelli minacciati e vulnerabili, con particolare attenzione alle zone umide di importanza internazionale. Tutt'oggi continua a stabilire lo standard per la conservazione degli uccelli negli attuali 28 stati membri dell'Unione Europea e, insieme alla direttiva Habitat adottata nel 1992, costituisce il fondamentale punto politico dell'Unione Europea in materia di biodiversità. Fino ad allora non c'erano mai state delle direttive vere e proprie per quanto riguardava la protezione della biodiversità ed in particolare in questo caso gli uccelli. Col quarantesimo anniversario si è fatto un po' il punto della situazione e si è visto che grazie alla direttiva uccelli oggi circa 5.000 siti sono protetti in tutta l'Unione Europea per la presenza di uccelli salvatici, per una superficie totale di circa 700.000 km2 tra terra e mare, cioè equivalenti, per farci un'idea, alle dimensioni della Germania e della Polonia messe insieme. Questi siti proteggono gli abiti di 194 specie di uccelli elencati nell'allegato 1 della direttiva, che sono minacciati con reale ridotto o particolarmente vulnerabili ai cambiamenti nel loro habitat. Insieme ai siti protetti e ai sensi della direttiva habitat, queste zone di protezione speciale, che si chiamano ZPS, costituiscono la rete Natura 2000, che è la più grande rete coordinata di aree protette al mondo. I progressi nella classificazione della ZPS erano inizialmente piuttosto lenti e sono rimasti stagnanti per circa 10-15 anni, ma poi con l'adozione della direttiva habitat, ripeto, nel 1992, il progressivo allargamento dell'Unione Europea da 9 stati a 28 stati membri attuali e la potente influenza della Corte di Giustizia Europea, il numero di siti protetti è cresciuto rapidissimamente, aumentando quasi di 4 volte tra il 1996 e il 2016. Per dimostrare la validità effettiva delle ZPS, sono recentemente stati pubblicati diversi studi scientifici sugli effetti di questo processo. Tutti confermano che le ZPS hanno contribuito a proteggere le specie di uccelli di cui ha l'allegato 1 della direttiva. Queste specie hanno in media risultate significativamente migliori rispetto a altre specie. Circa il 40% degli uccelli dell'allegato 1 mostra ora una popolazione in aumento rispetto a solo il 22% degli altri uccelli. Tutto ciò però non va dimenticato che esistono altre specie di uccelli che magari non sono considerate nell'allegato 1 della direttiva habitat. Infatti la UCN che è un organismo internazionale per la conservazione della fauna selvatica stila ogni anno delle liste rosse per monitorare lo stato di aumento o diminuzione di una determinata popolazione di uccelli che comprende sia quelli della direttiva habitat che quelli fuori dalla direttiva habitat. Quindi dà uno sguardo anche alle altre specie che non sono considerate in questa direttiva. Chiaramente la direttiva di per sé non può sopperire al fatto che gli uccelli si estinguano in un determinato ambiente per tutta una serie di pressioni. Infatti l'Unione Europea ha previsto delle azioni di conservazioni e la creazione delle reti Natura 2000 rappresenta di per sé un importante risultato per la conservazione della natura in Europa. Ma questo di solito è solo l'inizio di un processo. Una volta costituite le aree Natura 2000 gli stati membri devono anche proteggerle da attività dannose e adottare le necessarie misure di conservazione per mantenere o ripristinare gli habitat e le specie protette. In questo senso l'Unione Europea finanzia ogni tot anni in un intervallo di tempo di circa 4 anni dei progetti che si chiamano progetti LIFE che sono dedicati prevalentemente alla protezione e alla conservazione della fauna selvatica. Chiaramente questo processo è complesso considerando il numero di aree protette coinvolte e il complesso mix di pressioni, minacce e problemi dell'uso del suolo che sono in gioco. Tutto questo non è assolutamente facile. Solo con un forte coinvolgimento delle parti interessate, delle risorse umane e finanziarie che devono essere chiaramente sufficienti per attuare le misure di conservazione si possono produrre progressi reali. Dico questo perché se noi prendiamo in considerazione una minaccia in particolare quali sono le pratiche agricole insostenibili che hanno portato a un preoccupante declino degli uccelli delle zone agricole dal 1980 di circa il 50%, per esempio la lodola. Un'altra minaccia molto importante a tutto tondo per quanto riguarda gli uccelli selvatici sono le problematiche delle azioni illegali contro di loro. Nonostante il successo della direttiva uccelli nel proteggere le specie di uccelli selvatici sussista ancora un grosso problema appunto con la loro cattura, uccisione e commercio illegale. Si stima che circa i 25 milioni di uccelli vengano uccisi ogni anno nel bacino del Mediterraneo per questa minaccia. Ciò sta avendo un forte impatto quindi su molte popolazioni di specie di importanza mediterranea e comunitaria. Ma noi non vogliamo parlare soltanto di note negative ma parliamo anche di note positive con alcuni esempi come l'aquila di mare che estinta in diversi paesi dell'Unione Europea ha avuto come risultato diretto di questa direttiva uccelli un incremento quattro volte superiore alla norma dal 1970. Era estinta in diversi paesi come risultato diretto della sua persecuzione. Grazie alla protezione legale e al divieto di utilizzo di sostanze chimiche dannose come il DDT e il PCB appunto come dicevo prima la sua popolazione è quadruplicata dal 1970. Oppure la popolazione di spatola hanno subito un notevole declino a causa della perdita di habitat grazie all'istituzione di oltre 800 siti come appunto le ZPS. La popolazione di questo uccello è più che raddoppiata tra il 1991 e il 2012. In generale risultano quindi essere più facilmente protetti gli uccelli che sono associate alle zone umide. Mentre gli uccelli associate alle praterie e agli habitat agricoli hanno la più alta percentuale di specie minacciate circa il 23% seguite da tutti gli uccelli associati agli habitat marini. Diverse specie cacciabili come pernici, quaglie e gallicidroni inoltre non mostrano una situazione più rosa con una più della metà delle specie ancora in declino o in pericolo. Lo stato di peggioramento di queste specie può essere ricondotto a una serie di fattori ma in generale è dovuta a pressioni al di fuori delle aree protette e in tutta la campagna come l'inquinamento diffuso, l'uso intensivo di terra o di mare, lo sfruttamento e il cambiamento climatico. Tutto ciò richiede un importante passo in avanti nei programmi politici più ampi chiaramente se devono essere affrontati in modo adeguato. Quindi dopo tanti decenni di duro lavoro, 40 anni appunto, grazie alla direttiva uccelli sono stati raggiunti importanti obiettivi per la Vifauna europea. Questi risultati danno speranza per il futuro evidenziando che laddove le azioni sono intraprese su una scala adatta e con risorse sufficienti possono essere affrontate anche le situazioni più estreme ma chiaramente ci attendono molte sfide importanti e c'è ancora molta strada da percorrere per dare pieno risultato al potenziale della direttiva uccelli. Quindi continuiamo ad andare avanti o perlomeno ci proveremo, ci proveranno più che noi. Io come sempre spero che questi minuti dedicati alla natura siano stati interessanti e vi siano stati di gradimento. Vi do appuntamento al prossimo podcast e vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social. Un saluto e un arrivederci.